Va bene il turismo in Toscana ma non è ancora tornato ai grandi numeri di una volta, lo ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, intervistato da Gigliola Caridi. Siamo in piena stagione turistica, ci sono dei dati sul turismo a Firenze e in Toscana? Ci sono dei dati del turismo in Italia che purtroppo marcano come l'Italia pur quanto in termini di numeri assoluti continua a progredire relativamente alla massa del movimento turistico mondiale perde posizioni. La Toscana è in controtendenza, però questa controtendenza è marcata finalmente da elementi anche, da dati reali, statistici e trovati, mi sembra che si parli intorno a un media di 1,2% in più. Però no, non è il grande ritorno al successo, ai grandi numeri, alle grandi occasioni che l'economia turistica toscana invece può offrire. In particolare ci sono situazioni di crisi perdurante nel settore termale e ci sono situazioni ormai consolidate purtroppo e dobbiamo interrompere in tutti i modi del depauperamento della rete turistica e della struttura turistica ricettiva nella montagna. Per il resto le città d'arte sono ormai le mete mondiali del turismo e noi dobbiamo però far sì che questa risorsa sia distribuita. Questa è la funzione del soggetto pubblico e in questo noi ci stiamo impegnando.